Ci sono quelli comunque che dicono che non è bisogno uscire dalla tua nazione, non devi spostarti da nessuna parte e voglio su questo soggetto leggere una domanda da parte di Salvatore che ha detto, cari fratelli, mi è capitato... Comunque, scusa, voglio dire, se il Signore vi mostra di abitare nel centro di Roma, di Bruxelles, di Nova York, fate quello che Dio vi dice. A me il Signore mi ha detto di andare nel terzo mondo, sono qui, quanti anni? Undici, quanti sono? Undici, sì, più o meno, sì. E il Signore ce l'ha confermato un sacco di volte e è stata la mossa giusta. Voi decidete voi cosa. Va bene, non ascoltate le capre, i caproni di certe chiese, che il fratello Giuseppe vuole che milioni di cristiani escono dall'Europa, ma tranquillo, non sta uscendo nessuno. Tranquillo. Non esce nessuno. Sono tutti a scaldare panche nelle chiese. Va bene. C'è stato dei tempi, delle ere, quando le persecuzioni in Europa religiose, che le due Americhe erano rifugio e sono sfollati. Non sta succedendo adesso. Perché? Perché i falsi profeti, i predicatori, li tengono sotto controllo tramite scritture che usano e che interpretano male. Vai Angela. Salvatore dice, cari fratelli, mi è capitato di scambiare delle chiacchiere con un fratello nuovo sulla fine dei tempi e mentre parlavamo lui ha tratto queste conclusioni. Gesù non è fuggito, gli apostoli nemmeno. Hanno dato tutti la loro vita, dobbiamo imitarli. Siamo noi che dobbiamo stare sempre stretti a lui. È mondiale, non cambia nulla dove vai. Solo per Israele ci sarà la fuga nel deserto per tre anni e mezzo. Questa è un'interpretazione falsa. Non è Israele, è la donna. Non dice Israele, dice la donna. La donna fuggì nel deserto, Apocalisse 12, 14. Chi è la donna? Da tutto quello che... La donna è quella di Apocalisse 19, 7, cioè la sposa di Cristo. Avanti. Solo un terzo di loro si salverà. Questi sono i viventi che parla Paolo al ritorno di Cristo. Non dà nessuna scrittura così. Tutte sono interpretazioni. Questi sono libri americani. Ma per noi gentili c'è il martirio. Noi gentili, attenzione. Attenzione a queste interpretazioni. Guarda, questo qui è il Vangelo falso che si predica oggi. Va bene, non ci credete. Quelli che sono in Giudea è rivolto di andare ai monti, non per gli altri popoli. Queste sono le sue conclusioni. E sappiamo, fratelli, che queste idee sono molto sparse nel mondo cristiano. Anche voi sicuramente avete incontrato persone che dicono queste cose. Rispondiamo oggi un po' a queste idee, perché aiuterebbe sicuramente tanti di noi, di voi, nelle evangelizzazioni. Allora, iniziamo dall'inizio, dove dice Gesù non è fuggito, lui non si è nascosto, gli apostoli nemmeno. Hanno dato la loro vita e quindi dobbiamo imitarli. Dobbiamo anche noi soffrire il martirio, dopo tutto siamo gentili. Per i gentili c'è il martirio. Dicono che il rapimento da vivi, i viventi, che parla Paolo, è solo per gli ebrei. Tu cosa dici, Giuseppe? Sì, ma non hanno scritture, però. Queste sono un sacco di chiacchiere, comunque un film, Left Behind. Ma magari useranno anche qualche scrittura qua e là. No, ma le usano. C'è chi li usa? Tutti storti. I farisei usano sempre scritture contro Gesù. Sì, sì. Per questo che quando il trucco del diavolo oggi è mantenere le chiese, le pecorelle delle chiese, dolci pecorelle, sincere, nell'ignoranza. Devevano sempre solo attraversare il pastore, il prete, il pastore. Invece no, di attraversare Cristo, lo Spirito Santo, la parola, la Bibbia. Un pastore che non ti insegna ad essere autosufficiente nella parola, a capirla da sola, è un imbroglione, un falso profeta. Il compito del pastore non è farsi bello, è grande, raccogliere soldi. Lui è sempre il primo in tutto. No, il lavoro del pastore, ma Giovanni 14, 12, opere maggiore di me farete, ha detto Gesù. Devi insegnare le pecorelle a fare meglio di lui, più di lui. Oh, imbroglioni, falsi profeti. Per noi gentili. Ma quale gentili? Gentili vuol dire pagani. Noi siamo cristiani, non siamo gentili. Vi stanno imbrogliando. Sono gli ebrei che chiamano noi gentili. Questi ebrei vanno lì, nella loro chiesa, attaccano le bandiere ebraiche, li fanno predicare, nascondono le croci. E questi ebrei gli dicono, anche se siete gentili, noi vi amiamo. Oh, grazie. Guarda, mi dispiace, ma queste sono le solite false dottrine dei cosiddetti dispensazionalisti, dispensazionalisti. Cioè, quelli che credono alla dispensa. Che sarebbe? Sarebbe come patto. Cioè, un patto di Dio, tra Dio e gli ebrei, a parte il Nuovo Testamento e a parte il Vecchio. Che l'ha inventato? Uno che si chiama Darby l'ha inventato. Darby? Sì, nel 1830, questo qui, Darby, ha inventato questa dottrina che c'era la dispensa per gli ebrei, va bene? E era 1830, era un inglese, un ministro, un prete della chiesa d'Inghilterra. E questo qua ha iniziato questa dottrina. Si chiama John Nelson Darby. Si chiama questo, Darby con la Y. Allora, chi era questo? Questo qui è tutto rispetto a un poveraccio setario, questo qui. Un religioso al quale non bastavano il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. No. Allora, si sono inventati degli altri e li ha chiamati dispensazioni. Quindi dispensazionalisti. Cioè, loro credono che... Oggi i pentecostali, i battisti, i carismatici, i maggioranzi protestanti sono della dispensa. Perché credono che Israele ancora è un popolo speciale. Sì, ma li hanno imbrogliati. Non è vero. Il popolo di Dio è Israele. Adesso tornerà ad essere insieme ai cristiani. Ma attualmente ha rigettato Cristo e ancora lo rigetta. Non ti permettono di evangelizzare in Israele. Perché sono anticristo. Domani si pentiranno. Domani cambieranno. Domani torneranno ad essere il popolo di Dio che si chiamerà il corpo di Cristo. Non si chiamerà più Israele di Mosè e di Aronne. Loro vogliono fare un tempio in Israele, ne parlano in continuazione, per fare sacrifici di animali. Ma questi cristiani qui, ma è una vergogna, stanno tornando al Vecchio Testamento. Stanno tornando all'Israele del deserto. E allora questo qua, Darby, sono andato proprio a scoprire il nome. Era Darby quello che ha inventato la dispensa. E praticamente dobbiamo lasciare questi ebrei e questi cristiani ingannati in questa fantasiosa strada. Dobbiamo proseguire col Nuovo Testamento per come Dio ce l'ha insegnato. Ma Darby insegnava le dispense. Cioè dispense vuol dire autorizzazione, vuol dire che c'è un nuovo patto. Non basta il Nuovo Testamento. C'è un nuovo patto per Israele, che Israele è ancora benedetta da Dio, anche se rispinge Gesù. Non è vero! Questo religioso dice, cito, per noi gentili c'è il martirio. Ma guarda, certo che a volte bisogna combattere per il Signore e morire come martiri. E questo nel contratto del Vangelo, è logico. Ma a volte si ottiene di più, eccomi qui, martirizzatemi, ma si ottiene di più sfuggendo alle persecuzioni, per lo scopo di portare più frutto a Cristo. Va bene. Matteo 10,23, cosa dice? Quando vi perseguitano in una città? Fugite in un'altra. Matteo? Matteo 10,23, e lo dice Gesù. Allora, se devi fuggire in un'altra città, vuol dire che non è che devi... Eccomi qui! Io sono Erduro del Rione, non ho paura di voi. Uccidetemi. Faccio un cerchietto qui con il Marche, questo è il cuore. Mirate bene. Io non ho paura. Tu sei imbecilo, non sei un martire. Scusa. Andiamo alle scritture, Angelina? Sì. Perché noi siamo... Questo qua dice, gli è andato a Salvatore, grazie Salvatore per condividere. E questo, cosa dicono? Questi dicono, noi siamo gentili. E la scrittura? Dove che dici siamo gentili? Noi siamo seduti con Cristo, i nefesini, siamo seduti con il trono, siamo seduti nello spirito, sul trono con Cristo. Altrimenti come facciamo a fare i miracoli, i guarigioni, se non siamo con Cristo? E gli ebrei sono lì, con la loro lunga barba, il cappellino, le trecce, ancora all'età antidiluviana, di Aronne. E non solo, ma i cristiani sono la discendenza di Abramo, lo dice chiaramente in Galati 3,29. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Non siamo gentili. Perché quando Cristo è arrivato, ha portato un bivio. Cioè Abramo è arrivato fino a Gesù, a Gesù Abramo si ferma e comincia Gesù Cristo nello spirito. Quindi gli eredi della parola, della promessa. Quando Dio ha dato la promessa ad Abramo, la tua discendenza, stavo parlando di Cristo. Cioè arrivare fino a Cristo, e a Cristo lì cambia tutto. Lì la discendenza diventa nello spirito. Come quando Gesù ha detto, chi è mia madre? La Madonna? No! Chi sono i miei fratelli? Quelli della carne? No! Mia madre, la mia mamma, adesso, i fratelli e la mamma sono quelli che fanno la volontà di Dio. Quindi, madri spirituali, fratelli spirituali. E lo stesso con l'Israele dello spirito, e poi c'è l'Israele della carne. E questi poveri evangelici sono tornati alla carne. Sono tornati all'Israele della carne. Sono tornati sul monte Sinai. E dicono, Gesù non è fuggito, dicono. Dicono che Gesù non è fuggito. No, Gesù ha dato la sua vita, non è fuggito. Bugiardi! C'è il momento di attaccare, e c'è il momento di fuggire, per meglio vincere la guerra. Esempi biblici. Guarda, ho preparato qualche scrittura, te lo date, ce le hai? Sì. Dovresti avere lì, guarda qualche angolo. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Guarda, Giovanni 8,59, 10,39, va bene. Giovanni 8,59, allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Giovanni 8,59. E Giovanni 10,39, essi cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli sfuggì loro dalle mani. Giovanni 10,39, sono solo due scritture, ma ci trovate tante altre nel Vangelo dove Gesù ha detto non rivelate chi sono prima del tempo, non è ancora il tempo di morire, si nascondeva, fuggiva e il Signore lo salvava perché non era il momento di morire. Poi, quando è arrivato il momento del Calvario, sì, ha dato la sua vita e così dobbiamo fare anche noi. Verrà il tempo di morire, moriremo, però fino a quel punto quando Dio dice noi dobbiamo evangelizzare, salvare altri, aiutare, nasconderci anche se bisogno. Certo, Gesù si nascose, oh, dove sono falso profeta che si nasconde? Ha paura, non vuole essere martire, ma siete voi marturotti, a Milano marturotti di Refessono. Guarda, andiamo a Elia, c'è qualche scrittura su Elia lì, Primo Re 17, Elia fugge, fugge in luoghi diversi. Se andate al capitolo di Elia, Elia Primo Re 17, vedete che Elia fugge in due diversi luoghi, Primo Re 17. Il grande profeta Elia che chiamava fuoco del cielo che scappa, scappa, è scappato tre anni e mezzo infatti. E Mosè cosa fa in Esodo Capitolo 2? Fugge a Midian, Madian. Si nasconde per quarant'anni. Paolo cosa fa secondo Corinzi 11.33 Da una finestra, lo leggo io, da una finestra fui calato in una cesta lungo il muro e scampai dalle sue mani. Quindi Paolo scappa in una cesta. Oh, direbbero i religiosi di oggi, vergogna, hai paura di morire, eh? E le due spie di Giosuè capitolo 2, cosa dici? Ce l'hai lì, no? Il verso 16. E disse loro, andate verso il monte affinché non vi incontrino i vostri inseguitori e rimanetevi nascosti per tre giorni fino al ritorno di coloro che vi inseguono. Poi andrete per la vostra strada. Giosuè 2, 16. Questi si sono nascosti a casa della prostituta in un bordello. Viene qui la prostituta Rab, che poi diventerà l'antenata di Cristo, questa qui, e gli dice fuggite al monte, nascondetevi. e le chiese di oggi ahhh, noi non abbiamo paura, voi guarda, non ve lo dico cosa siete, guarda, ma non è niente di complimentevole. Giuseppe, Maria e Gesù furono comandati dall'angelo di fuggire in Egitto, una terra pagana. c'era in Matteo 2, a 13? Sì. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci. Fuggi, scappa, ma come, Giuseppe ha paura? No, non è un fesso, semplicemente. Fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Matteo 2, 13. Capito, oggi dicono ma io non ho paura mica di Erode, mica ho paura di morire, mica ho paura dell'anticristo, io non ho paura. Per cortesia, un po' di sale nella zucca, eh? È pazzesco pensare che dobbiamo restarcene seduti in qualche edificio religioso a cantare alle finestre, aspettare che vengono gli sgherri, quelli del maligno a martirizzarci, assolutamente pazzesco. Ma cosa gli insegnano questi predicatori? La prima chiesa si è nascosta nella catacombe per secoli. È vero, sì. Perché si nascondevano? Non avevano fede? Non avevano fede. Paure di essere martiri? Nascosti nei buchi sotto terra come fanno come fa Hamas. Hamas in Gaza fa esattamente come la chiesa. Invece dei romani ci sono gli ebrei che li bombardano. Però in quel caso c'è la protezione di Dio. Io credo piuttosto che sono i falsi profeti di certe chiese con le loro false dottrine dalla dispensazione che non riescono a staccarsi dagli idoli dei loro edifici. Vangelo di prosperità. Dalla loro vita comoda. E questa è la vera ragione. In base a quello che il diavolo fa il popolo di Dio deve prendere le istruzioni da Dio su come è meglio combattere di conseguenza. Tu entri in una battaglia e devi avere le idee chiare. Avere un piano. Però quando il diavolo cambia le cose perché in una battaglia non è che il nemico segue i tuoi piani. Allora devi essere in grado di cambiare. Vediamo Gedeone in Giudici 6. Andiamo lì. Sì. Leggi. Giudici 6 verso 11. Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto d'Offra che apparteneva a Ioas a Biesirita e Gedeone figlio di Ioas trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai Madianiti. Giudici 6 11. E allora qui vediamo il grande Gedeone che nascondeva si nascondeva per trebbiare il grano. Oh pauroso noi la nostra chiesa il grano lo trebbiamo in piazza davanti a tutti. È incredibile come la chiesa è veramente diventata apostata. Andiamo andiamo anche Apocalisse 12 14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto nel suo luogo dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12 14 loro quando leggono questo qua Darby gli ha insegnato questo è Israele ma dove è scritto? Dicono sì che sono gli ebrei. Non è Israele non dice da nessuna parte è la stessa donna usa la stessa parola l'Epocalisse 19 7 che è la sposa di Cristo va bene e poi infatti basta leggere il verso 17 14 va al 17 dice il diavolo l'anticristo la bestia il dragone non potendo raggiungere la donna andò a combattere la discendenza di lei ora la discendenza dalla donna va bene va bene e non è Israele la discendenza è altri cristiani sì sì va bene e combatte la discendenza dalla donna che seguono i comandamenti di Gesù Cristo ci siamo è tutto intorno a Cristo non è Israele va bene si può interpretare mille modi per l'amor di Dio può imbrogliare la gente come ti pare la puoi interpretare alla Geova alla Mormone al Cattolico alla Protestante ma rimaniamo sulla Bibbia per cortesia dov'è il collegamento che questo è Israele da nessuna parte è come quelli che dicono che la donna è dell'Apocalisse 12 e la Madonna ma come fai a collegare così scusa allora andiamo avanti grazie signore questa nascondendo il suo treno e mezzo è un balzo avanti del diavolo ma si nasconde il diavolo non riesce a distruggere non perché ha le portaeree americane ma perché è nascosta Roma Roma non poteva raggiungere i cristiani nascosti catacombi eccetera non perché avevano armate di soldati ma perché come adesso fa Israele ma perché erano nascosti persino il mondo ha questa saggezza che di 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 non farsi martirizzare inutilmente cosa dicevo a Giulio Cesare cosa i primi a morire in una guerra sotto le frecce e le lance che il nemico arrivava a cavallo e buttava le lance e scappava poi c'erano i gruppi di arcieri che lanciavano le frecce e allora Giulio Cesare diceva non sono i valorosi che muoiono per primi nella guerra ma sono gli sciocchi voleva dire che le battaglie non si vincono con gli eroi morti che non potranno più combattere ma con quelli che sopravvivono infatti in certe battaglie ho visto che facevano apposta ferire il nemico non ucciderlo perché perché un ferito aveva bisogno di tanti soldati che lo aiutassero quattro soldati portarlo alla barella poi portarlo di qui portarlo di là mandarlo sulla nave ospedale se c'era la nave oppure in altre situazioni e i feriti davano molto molto più le mine anti uomo le fanno apposto che perdi una gamba ma che non ti uccide lo scopo è quello un soldato con una gamba solo non può combattere con le stampelle quindi è più difficile per il nemico avere tanti feriti che è morti va bene quindi in Vietnam l'America ha perso contro i Viet Cong perché questi i Viet Cong sapendo della superiorità degli armamenti americani adottavano la strategia della guerriglia attacca e fuggi fuggi e attacca nasconditi e attacca attacca e nasconditi e gli americani erano erano obbligati a bombardare e distruggere interi interi villaggi si chiamano bombardamenti a tappeto lo stesso in Afghanistan specialmente in 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 Vienna distruggevano interi villaggi sembrava che fosse esplosa un'atomica i partigiani italiani fecero lo stesso si nascondevano sempre raramente venivano uccisi sono almeno 17 secoli che la chiesa delle panche calde e dei predicatori alla camomilla perde in continuazione ed oggi queste chiese sono diventate dormitori musei religiosi per cantanti per pappagallini che hanno imparato quattro preghiere da ripetere ogni domenica lo stesso noioso copione cosa dice Gesù Marco 16 Isaia 52 dovreste avere queste due scritture Marco 16 15 e disse loro andate per tutto il mondo praticate il Vangelo a ogni creatura Marco 16 15 non dice andare in un edificio a sedersi no? no dice no non dico per chiarire Isaia 52 verso 7 quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie che annuncia la pace che è araldo di notizie a diete che annuncia la salvezza che dice a Sion il tuo Dio regna Isaia 52 verso 7 amici e predicatori del signor Nelson Darby e anche di Scottfield che è un suo discepolo Scottfield ha fatto una Bibbia interpretata tutta la Darby dispensazioni Israele al primo posto questa scrittura Isaia 52 dice come sono belli i piedi del messaggero quindi dice i piedi sono belli non il sedersi sulle panche i piedi sono belli perché perché quando ti siedi in panca non vuoi da nessuna parte i piedi sono belli perché poi dice come sono belli sui monti i monti i piedi del messaggero di buone notizie che annuncia la pace araldo di notizie liete che è Gesù che annuncia la salvezza che dice a Sion il tuo Dio regna non c'è nessuna non si può interpretare che vuol dire andate a sedervi in un edificio cimitero chiamato chiesa non puoi interpretarlo così quindi i piedi servono per andare a evangelizzare per quello che sono belli e bellissimi allora gloria a Dio Angelina ti basta su questo soggetto della dispensazione chi sono i veri ebrei Israele chi è il vero Israele negli occhi di Dio abbiamo delle registrazioni molto interessanti e vanno in tutta la Bibbia perché ci sono tante scritture in tutta tutta la Bibbia che mostrano che il popolo di Dio sono i cristiani Israele quando si convertirà se deciderà di convertirsi diventeranno anche popolo di Dio però adesso non lo sono e ci sono tante scritture che dicono noi non siamo più gentili sì eravamo una volta però se leggete solo Efesini 2 dice hai capito dice voi che eravate gentili adesso in Cristo siete parte della famiglia di Dio siete con cittadini con i santi quindi ci sono tante scritture è bellissimo Efesini 2 cioè vedete che queste chiese protestanti a forza di baciare i piedi agli ebrei si sono fatti infagottare infinocchiare imbrogliare praticamente gli ebrei vanno lì e gli ridono dietro e poi sputano per terra appena sento il nome di Gesù è così e questi qui adesso li hanno convinti che loro sono gentili il diavolo li ha convinti che sono tornati a essere gentili gentili vuol dire pagano va bene e invece no i gentili adesso sono gli ebrei sono loro i pagani perché sono loro che hanno respinto Cristo e ancora lo respingono sì però dice Darby che loro nella tribolazione si convertiranno ma Darby che se ne va dal suo paese per cortesia dov'è che prende queste bugie Darby su cosa le basa ah le scritture le leggono ma non significano niente non dice questo o la scrittura di Efesini 2 11 perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi eravate in quel tempo senza Cristo e sì eravate estranei della cittadinanza di Israele estranei della promessa ma ora in Cristo Gesù verso 13 voi che un tempo eravate lontani siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione per riconciliare ambe due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al padre in uno stesso spirito verso 19 voi dunque non siete più forestieri né ospiti ma con cittadini dei santi e membri della famiglia di Dio Efesini 2 19 non siamo più gentili si eravamo una volta senza Cristo ma adesso no non più non siamo né forestieri né ospiti ma membri della famiglia di Dio amè grazie signora anche Galattia 3 28 dice non c'è più giudeo né greco i giudei non esistono più non c'è giudeo né greco Galattia 3 28 né schiavo né libero né maschile né femmine tutti siete uno in Cristo Gesù quando vengono gli ebrei nella vostra chiesa che voi nascondete le croci attaccate le bandiere israeliane per offendere per offendere i musulmani non dovreste fare comunque se fate questo non fatevi infinocchiare che voi siete diventati gentili e loro ha detto Darby ha detto che lui sai gli ebrei sono superiori quel lato Scotfield i discepoli di Darby ha fatto una Bibbia che gli ebrei sono in alto perché c'è la dispensazione c'è come dire la grazia di Dio che gli ebrei anche attenzione cosa ci dice questo imbroglione Darby anche se gli e Scotfield quasi tutte le chiese pentecostali hanno la Bibbia di Scotfield perlomeno in inglese non so in italiano se esiste è una Bibbia terribile piena di bugie Dio c'è libero buttata la via se potete tenetevi la scrittura ma le interpretazioni non sono apocrifi sono ipocriti e falsi ok allora non fatevi dire non fatemi infinocchiare che voi siete diventati gentili non siete gentili siete cristiani gentili attenzione vuol dire pagano e questo qua gli dice a Salvatore noi gentili ma sarai tu gentile va bene è tutto il contrario tutto il contrario sono gli ebrei che sono sono diventati gentili quando hanno rigettato Cristo ma noi siamo diventati il popolo di Dio cristiano perché abbiamo ricevuto Cristo come osate voi pentecostali battisti protestanti come osate far entrare nelle chiese agli ebrei che vi chiamano pagani come osate vergogna su di voi sto parlando dei leader dei capi imbrogliati ciechi come osate far entrare gente ancora non si è pentita di aver fatto crucifiggere Cristo gente che ha aggridato che se quest'uomo è innocente che venga il suo sangue su di noi e se i nostri figli si sono automessi automettersi sotto maledizione una maledizione che Dio non aveva mai pensato se la sono tirata loro addosso ciechi orbi di chi sto parlando i predicatori protestanti e mi sento così male a vedere tutti abbiamo predicato in tante chiese protestanti c'è un sacco di amici gente preziosa gente che ama il Signore ma questi predicatori imbroglioni come li ingannano tu vuoi dire qualcosa? ho sentito che quello che loro dicono è che il piano originale e finale di Dio è Israele e che la Chiesa adesso è solo una dispensazione della grazia come riempire un vuoto una pausa affinché Israele arriva di nuovo nel centro e poi Dio tornerà al piano originale Israele praticamente mettono Israele molto più alto che la Chiesa cristiana e facendo questo mettono Israele al di sopra di Cristo purtroppo sì è così il idolo diventa Israele e in questo modo mettono anche il vecchio testamento più importante lo fanno più importante del nuovo testamento e c'è una confusione così che religione che cristianesimo è questo le scritture non contano più il Vangelo non conta più inventano le loro dottrine guarda qui trovate un paio di scritture che vanno d'accordo con questo vuoi andare Filippesi 3 3 sì e Colossesi 2 11 perché qui dovete dare queste scritture notate che queste scritture dicono nero su bianco dicono proprio chiaro chiaro noi siamo i veri circoncisi noi noi Filippesi 3 invece questi imbroglioni prendono una scrittura la storpiano la donna fugge nel deserto attenzione cancellare donna scrivere Israele ma non c'è scritto Israele perché perché siamo noi Israele come fai a essere tu Israele quando invece sono io e ma loro discendenze di Abramo nella carne nella carne ma non conta più allora Filippesi 3 3 e Colossesi 2 11 per favore i veri circoncisi infatti siamo noi che serviamo Dio nello spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù senza confidarci nella carne Filippesi 3 3 bella questa e Colossesi Colossesi 2 11 Colossesi 2 verso 11 nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo ma della circoncisione di Cristo mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne Colossesi 2 11 gloria a Dio ha capito i veri circoncisi sono gli ebrei che ha crocifisso Gesù no no siamo noi Filippesi 3 3 ma per cortesia come lo devo dire in cinese è scritto è scritto questo qua arriva a Darby dalla sua tomba dove ha sepolto noi circoncisi sono gli ebrei noi siamo gentili ma state zitto hai perso un'occasione per stare zitto Colossesi 2 11 una circoncisione non fatta da mano d'uomo ma di Cristo Cristo è stato circonciso sì sì ma per noi però adesso noi dobbiamo più noi dobbiamo più fare quello che Cristo ha adempito la circoncisione era il patto ora Cristo ha adempito quel patto non c'è più il patto in Abramo in Mosè e adesso c'è il patto di Cristo ma arrivano questi strampalati stravolti no ma ci sono altri patti e dove sono e qui c'è una parola difficilissima da capire è tutto basato lì no dispensazione cosa vuol dire dispensazione adesso ti spiego e ci vuole un libro come il libro del telefono per spiegare ed è tutto sbagliato vai Osea 1 9 Osea 1 verso 9 allora l'Eterno disse a Osea chiamalo lo ami perché voi non siete mio popolo e io non sono vostro Dio Osea 1 9 che spiega che hanno esplendato lì cioè è un bambino che è nato a Osea e l'Eterno ha dato questo nome simbolico al bambino ha detto chiamalo così lo ami perché praticamente Dio stava rigettando Israele perché Israele è stato ribelle per secoli e Dio adesso si è stancato e ha detto non siete più mio popolo basta non sono più vostro Dio per questa ribellione non volete cambiare vi ho chiamati tante volte così si insegna la Bibbia non prende una parola e ci costruisce una torre di Pisa una torre di Babela la parola si insegna nero su bianco se io dico che Israele non è più popolo di Dio è scritto non dice il contrario ma adesso te lo spiego io vedi il cavallo di Apocrisia sei tutto bianco con la corona in realtà è nero in realtà è il diavolo tutto il contrario l'hai trovata vai da Matteo 21 vai che c'è un'altra scrittura lì Matteo 21 21 da 43 guarda sta parlando di chi è qual è la vera Israele di chi è veramente Israele oggi a chi appartiene le Israele di oggi ci sono degli usurpatori gli attuali ebrei e ci sono dei veri proprietari che siamo noi quando l'Israele dei tempi di Giosuè arrivò in Canaan c'erano gli usurpatori si chiamavano i cananei e l'Israele di Giosuè di Mosè la vera Israele entrò e conquistò oggi la vera Israele siamo noi gli usurpatori sono questi qua ebrei della carne che dicono ebrei ma non lo sono vanno in giro a ammazzare quelli di Gaza perché loro sono ebrei non sono ebrei e allora dovremmo ammazzare nessuno e allora dobbiamo aspettare che ci ammazzano loro no puoi andare a cercare i colpevoli puoi andare a cercare quelli che hanno ucciso mille ebrei ma non vai a ammazzare 20.000 civili molti sono e molti a dire oggi che gli ebrei stanno ammazzando i civili apposta più ne ammazziamo meglio è sono e molti a dire questo i giornali allora leggi Matteo 21 43 per cortesia è Gesù che parla dice perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a un agente che lo farà fruttificare allora sta dicendo agli ebrei il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a un'altra nazione disse duemila anni fa e quella è un'altra nazione i cristiani il corpo di Cristo e per evitare equivoci è bello predicare la Bibbia nero su bianco senza equivoci a meno che uno non ci ha bello lavato da qualche setta come molti di questi protestanti purtroppo che si i cattolici molti cattolici sono della pacciamame i protestanti sono lo stesso grazie a Dio per le pecorelle che vanno alla parola verso 45 Matteo 21 i capi dei sacerdoti e i farisei udite le sue parole le sue parabole si avvidero che parlava di loro parlava di chi parlava di loro cosa stava dicendo il regno di Dio vi sarà tolto legge anche il 46 per buona misura e cercavano di prenderlo ma te mettero le folle perché lo ritenevano un profeta Matteo 21 da 43 a 46 devo andare oltre devo spiegare oltre no fratelli scrivete questi riferimenti per cortesia non andate da ignoranti davanti a questa gente che non sa di cosa parla gente che vi parla senza scritture come fate a presentarvi voi senza scritture se voi siete nel giusto andrete con le scritture ve le scriverete queste scritture metterete la vera Israele e metti 4 6 7 8 10 scritture così quando si presentano strampalato pieno di bugie dice chiedo scusa possiamo aprire la Bibbia e leggere una scrittura oh sì sì leggi pure ecco leggi qua vedi qua Israele non è più Israele la carne adesso c'è un Israele circoncisa nello spirito dice no no perché Darby ha detto e digli a Darby che vada a fare un bagno tu c'hai una scrittura qui dice che proprio Israele non è più Israele in Matteo 23 dice non mi vedrete più fino a quando non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore Matteo 23 alla fine cosa vuol dire questo vuol dire che Israele non sta dicendo benedetto a Gesù cosa significa significa che ancora non è il popolo di Dio no è chiaro o chiarissimo per me è molto chiaro non so se quello non è d'accordo dice non sei d'accordo e mi fa vedere una scrittura ma Darby diceva così Darby ma la ciappetere noi non siamo Darbiani siamo cristiani seguiamo Gesù non il tuo Darby i mormoni seguono Joseph Smith il testimone di i geoviani seguono Russell Russell Rutherford i loro fondatori Russell era un massone tra l'altro il suo polto sono un massone mi fermo? no voglio chiedere una cosa perché lo hai detto credo anche la settimana scorsa anche adesso l'hai menzionato hai detto che la terra di Israele non appartiene agli ebrei appartiene ai cristiani appartiene a noi va bene però in che senso perché geograficamente i cristiani non sono interessati ad andare a prendere la terra perché appartiene ai cristiani non ci interessa quello noi vogliamo il regno di Dio non Israele a noi interessa l'Israele spirituale in cielo ma anche la terra geografica appartiene a noi perché? perché lo dice in Zaccaria 14 cosa dice? e dice in Zaccaria 14 che di anno in anno i popoli pagani del mondo devono andare in Gerusalemme ad adorare il re che il re è Gesù ah ma questo nel futuro? nel futuro sì però adesso la terra Israele è una terra di nessuno fino al 1948 partendo dal 135 135 dopo Cristo quando i romani si stancarono che Israele si ribellava in continuazione nell'anno 70 e poi anche nel 135 si è ribellato di nuovo e hanno cancellato Gerusalemme dalla mappa da allora la chiamarono Palestina per cancellare il nome di Israele e da allora Israele non è più abitato in Israele fino al 1948 da 135 quell'anno lì da 135 dopo Cristo Israele cessa di esistere si chiama Palestina fino al 1948 è terra di nessuno infatti i palestinesi neanche gli interessavano di fare una capitale di Gerusalemme adesso si mangiano le mani però gli ebrei che sono arrivati sono usurpatori nel senso che Dio ha permesso loro di conquistare ma non perché è la loro terra ma in vista che loro diventeranno cristiani infatti vediamo in Zaccaria 12 verso 10 che Dio versa il suo spirito su Israele ok e il suo popolo ebraico e loro si pentono e loro guarderanno a colui che hanno trafitto Gesù Zaccaria 12 capitolo 12 capitolo 14 c'è Armageddon Gesù distrugge tutti quanti la battaglia di Armageddon e alla fine va bene i sopravvissuti dice andranno di anno in anno a Gerusalemme ad adorare il re il re sarà Gesù chi è il re? mica sarà Netanyahu si si certo capito? e anche quelle di Gaza che adesso li stanno ammazzando più che possono molti di loro si converteranno a Cristo e faranno parte di Israele come noi come gli ebrei come tutti ma Israele non è che sarà chiamato Israele per sempre Israele a un certo punto sarà chiamato solamente il corpo di Cristo così come quando i giudei si convertirono a Cristo non andarono in giro a chiamarsi ebrei si chiamavano cristiani comunque c'è una scrittura in Ezechiele 38-39 che dice che nel tempo della fine Dio riporterà Israele i ebrei nella terra di Israele cioè anche se sono tutti sparpagliati per il mondo li riporterà sulla loro terra originaria quindi adesso è giusto che sono lì no? è volontà di Dio però non devono comportarsi così da ammazzare tutti dovrebbero semplicemente avere un limite infatti se loro fossero stati più misurati e invece di mandare cararmati in Gaza avessero mandato negli anni cibo e cibo e vestiario e medicine cioè Gaza dipende dall'acqua da Israele e allora Israele infatti dice lo vede in televisione l'ascolti sono buoni a nulla non sono neanche capaci di scavare un pozzo perché non li aiuti tu che sei così intelligente Israele è uno dei popoli più intelligenti del mondo va bene perché ma perché erano il popolo di Dio perché hanno la base che gli islamici non hanno Israele c'è la base del Vecchio Testamento che è vera gli islamici hanno una base secondaria cioè un libro sacro che si chiama il Corano che è stato fotocopiato dal Vecchio Testamento un pochino dal Nuo Testamento ma Maometto non è che ci capiva molto ha dimenticato tutte le profezie non ci capisce niente delle profezie Maometto le uniche profezie che hanno il Corano sono quelle fotocopiate dalla Vivia quindi Israele avrebbe dovuto aiutare gli islamici adesso è arrivato Hamas però Hamas l'avete provocato voi Hamas sono gli ebrei che hanno provocato Hamas e Sbola l'Iran perché trattano i musulmani troppo male sì ma loro ci hanno attaccato senza preavviso nel 48 e poi altre tre volte è vero è vero ma voi che però il Signore vi ha sempre difeso vi ha sempre aiutato eravate disarmati e miracolosamente vi ha aiutato voi dovete capire che voi eravate popoli di Dio che quindi siete un passo in avanti poi le benedizioni di Dio prevedono anche includono la patrocinazione la protezione dell'America è tutto piano di Dio l'America anticristo sta difendendo Israele perché Israele ne ha bisogno così come la Persia per esempio la Persia anticristo ha aiutato gli ebrei nei tempi di Neemia nei tempi di Ezra gli hanno dato soldi tesori oro provviste la scorta e hanno ricostruito Gerusalemme adesso la Persia è l'America quindi Israele doveva comportarsi come ma è anche nel Vecchio Testamento noi vediamo secondo Samuel capitolo 6 il profeta Eliseo cosa fa lui alza la mano acceca tutta tutta l'armata dei siriani che volevano prenderlo diventano ciechi e poi gli dice seguitemi li prende ciechi e li porta in Samaria dove c'era il re il re che era un re cattivo e allora il re cattivo gli dice ah Eliseo uh ha catturato tutti i siriani che dice li posso uccidere tutti gli fa il re e secondo Samuel capitolo 6 gliel'ha chiamato mio padre ha chiamato padre mio Eliseo li posso uccidere e Eliseo fa uccideresti tu quelli che hai catturato dagli da mangiare da bere rifocillali e rimandali dal loro signore scrittura dopo dice e da quel giorno i siriani non vennero più in Israele a combatterli per un tempo cioè voglio dire Israele potrebbe imparare dai suoi profeti in questo caso Eliseo no voglio ammazzare tutti qua ma non avete imparato niente da Hitler non avete imparato niente dai nazisti non avete imparato niente da Auschwitz niente avete imparato adesso volete fare peggio dai nazisti hai capito che sto cercando di dire si si certo non dico che non sono non erano non sono ma erano proprio di Dio e non dico che non lo diventeranno lo diventeranno ma il signore gli darà un sacco di botte però un sacco di scolacciate infatti Israele dice in Ezechiele 38 sarà invasa da chi? dall'anticristo violenteranno le donne loro dice Zaccaria 14 le donne saranno violentate va bene perché se musulmani non scherzano quando conquistano abbiamo cose che fanno ti violentano le donne per qualche strano motivo cominciano delle più belle non ci sa perché virgolette ci siamo? vai quindi sorelle che siete belle state molto inocchiate perché in queste guerre fanno così va bene noi le nostre donne sono tutte belle però le teniamo in convento va bene teniamo sotto protezione grazie signore va bene a parte scherzi c'è altro su questo soggetto vado avanti al prossimo ma c'è così tanto che è meglio che mi fermo ok va bene c'è domande però se c'è qualche domandina veloce rispondiamo no su questo no poi dei fratelli hanno scritto dei commenti che ti leggo dopo però voglio prima di tutto dire ai fratelli che abbiamo aperto un canale su tiktok perché diversi di voi lo avete suggerito durante i mesi quindi finalmente abbiamo sempre dato di no no perché per il tempo limitato e anche Angela specialmente diceva di no 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 Dora diceva doppio no e io dico vabbè io rimango in unità cosa devo fare Dio ha inviato un aiuto non è che ci capisco molto di questi ticchetti e tocchetti il signor ha inviato un aiuto adesso la risposta è sì è Jasmine che si prende cura di questo canale Jasmine Dio ti benedica thank you fratelli ringraziate Gesù per Jasmine che è veramente un gioiello dei gioielli gloria a Dio una signorinella grazie Gesù allora voglio dire che questo canale si chiama radioblast.fr.giuseppe più complicato di così non l'abbiamo potuto fare perché tutti gli altri nomi erano già occupati presi quindi è questo radioblast.fr.giuseppe e trovate sulla home page sulla pagina radio prima cosa vedete lì il link di questo account di questa pagina tic toc se siete interessati e lì pubblichiamo tutti i messaggi che possiamo perché ci sono alcuni limiti di tempo di uploads there are different rules sono diverse regole però comunque lo useremo il più che possiamo e voglio ringraziare voi che lo avete suggerito perché è stata una buona idea alla fine e voglio ringraziare voi che ci aiutate anche a promuovere questi messaggi a diffondere i messaggi che inviate offerte e decime e collaborate con noi per fare possibile questa diffusione del Vangelo Dio vi benedica grazie siete preziosi gloria a Dio e pregate che possiamo raggiungere più pecorelle di prima gloria a Dio noi siamo qui noi non solo noi sulle mure di Gerusalemme spirituale come Neemia e ringraziamo voi fratelli che mandate i mattoni la malta e tutte le cose per costruire cioè le vostre decime Dio vi benedica che possiamo andare avanti con la costruzione qui ragazzi tutti per uno uno per tutti Amen Gloria a te Gesù nel nome di Gesù Cristo Angelina cosa? è un canto dopo due ore e mezzo è il tempo di mettere un canto ascoltiamo un canto di Natale di Eros Ramazzotti che dice sì è un bel Natale ma pace non c'è nel mondo che tipo di Natale è questo? ricordatevi che noi non celebriamo noi personalmente voi fate come volete ovviamente non celebriamo Capodanno Halloween Halloween Valentine's e tante altre Crazy in Crazy vuol dire pazzo Angelina se vuoi puoi andare avanti che andiamo ascoltiamo Eros Ramazzotti la notte vista da qui sembra bellissima stelle che accendono il blu quanta luce c'è e chi di un alleluia che non si spengono mai oggi è un giorno speciale Natale ed è sempre così Dimmi perché è Natale ma pace non c'è Buon Natale ma il senso qual è il saluto formale non è come amare quanti sogni fanno gli uomini che un giorno vanno via Buon Natale se vuoi quello vero che è dentro di noi dentro di noi la neve che cade qui mi sembra candida ma nel silenzio che fa c'è una guerra in ogni terra a metà e nessuno mai salverà anche un giorno speciale fa male e prego a non dimmi perché è Natale ma pace non c'è Buon Natale ma il senso qual è una frase formale non è un pensiero che vale perché c'è un Natale se vuoi ma può nascere solo da noi dentro di noi stella cometa sarà stella purissima stella purissima se dall'alto dei cieli un bel giorno la pace vedrà dimmi perché è Natale ma pace non c'è Buon Natale ma il senso qual è due parole da dire perché è normale crescerà un enorme albero quando finirà questa follia un Natale verrà e per sapere ci cambierà ci cambierà è Che come getta